Menti, non andiamo con un'incertezza Ok ragazzi, siamo qui Con Tiziano che è l'ultimo collezionista di questo oggetto Ciao ragazzi E' venuto qui E adesso il tempo che lui è arrivato Ho lasciato la bambola sul tavolo Certo, devo dire ragazzi che ho uno strano seguitore con la bambola La bambola è tua Sì, nel senso che l'ho presa io Non so se è possibile questa cosa Ma è come se sentissi questa creatura che è particolare tra me e lei Come se l'avessi adottata in un certo senso Senza sapere che tipo di entità c'è dentro Perché sapete che noi andiamo sempre molto a punta di piedi Perché un conto è quello che ci raccontano Le persone sugli oggetti che ci arrivano Un conto è quello che noi scopriamo con le intagini E ora vediamo un po' che esce fuori Con lei E ora vediamo un po' che esce fuori E ora vediamo un po' che esce fuori E ora vediamo un po' che esce fuori che è stato richiesto non c'è la testa abbassata non è via la testa abbassata c'è qualcuno guarda che ho portato ho portato l'ultimo tuo collezionista l'ultimo collezionista dell'oggetto hai combinato qualcosa qua dentro? allora Tiziano visto che tutti sono curiosi di sapere una cosa fondamentale qual è il suo nome? il suo nome? sì anche di prima vero ma già ve l'ha detto lei il suo nome ragazzi è Veronica esatto già ve l'ha detto lei con Alice e? tieni un ultimo io sono rimasto impassibile quando ho detto Veronica proprio per me oh mio dio oh mio dio fermati fermati non ho parole non ho parole raga non ho parole veramente che cosa hai visto scusa? allora ti spiego a parte che c'è di tanti orbs che ti stanno circondando ce n'è uno fratello che è passato qui è andato dietro di te e è rimasto fermo qui a fare così per tipo 5-6 secondi e poi se n'è andato a guardare me che riprendevo ti assicuro che una delle cose meno strane che sono successe è la foto di lei è pieno di orbs mai visti così tanti qui dentro ascolta io sono rimasto impassibile quando ho detto Veronica perché Veronica era il suo nome è il suo nome solo che io non volevo non potevo dirvelo in quell'episodio che il suo nome è Veronica quindi ho detto forse ho girato alla larga forse è il nome di una ragazzina con cui ho avuto a che fare ma Veronica è il suo originale nome è il nome autentico di questo oggetto esatto questo botto hai sentito che botto? sì sì ho sentito ragazzi non so se avete sentito che botto atroce tra era un pugno sì era un pugno sul muro già mi era capitato era un pugno sul muro lei ha detto di essere lucifero l'hai detto probabilmente per provocarmi senti che è freddo che fa fa un freddo clamoroso c'è qualcuno là c'è qualcuno là ragazzi qualsiasi cosa sentite scrivetelo nei commenti intanto ti dico che tu hai un botto di oro lo sento con te incredibile Veronica che? Veronica che? perché fai questo? perché fai questi tumori? però l'altra volta mi ha chiuso la palpebra davanti no ma si muove? ho flashato io l'altra volta mi ha mosso la palpebra davanti oh oh hai sentito là? fra qualcosa è andato in cucina è andato in cucina fermo è andato in cucina qualcosa eh ragazzi qualcosa no ragazzi eh com'era? com'era? io non te l'ho detto com'era fermo ma ed è uscita appena adesso una sfera di luce è appena è appena uscita è pieno di orbs è pieno di orbs ma è appena uscita la sfera di luce quando dopo aver sentito quel rumore qualcosa ha corso da lì a lì questo è impressionante qualcosa ha corso da lì a lì si sentiva nella distanza che l'audio era lì qualcosa che ha corso su questo di qua perché è appena uscita lì e poi l'ho sentito arriva qua qua si è fermato adesso che abbiamo rivelato il tuo nome ti fa piacere questa cosa sai che questa settimana ci sarà enzi in queste settimane ci sarà che farà testimonianza su di te testimonierà ma la portiamo lì o no si vuoi dire che abbiamo avuto la povede e io da quello che sapevo io si non so se ha parlato con te adesso diversamente è pure Perché è uno dei collezionisti che ha avuto lei Però non è che stai parlando con lei Quello è solo l'oggetto E' l'oggetto che c'è qualcosa di molto grande intorno a lei Non è una cosa normale E' incredibile guardarla Cos'era? Non ti ho No ma è il top Bisognava anche un verso prima Ma è il mio uno? Si Era no Puoi farlo ancora? Ho i brividi sto momento Lì se è qualcosa Se hai sentito qualcosa a livello corporeo Era così? Era così Era così Era così Eh così Due volte l'ho sentito Com'è possibile? Siamo completamente da soli In questa casa che quando Già ci sono altri oggetti Ragazzi come sempre non ci saranno tagli Questa è una cosa incredibile Il format è proprio entrare Visto che questo oggetto è probabilmente il più infestato che c'è in circolazione in Italia Ed è autentico perché oltre alla testimonianza appunto ma lo vedete anche dal fatto che essendo antica Anni 40 30 Probabile che lei abbia avuto più tempo per avere a che fare con infestazioni demoniache E poi raga la cosa assurda è che non è che siamo ancora entrati nel profondo e nel vivo dell'indagine Cioè stiamo semplicemente valutando quello che lei combina diciamo Esattamente Non è che siamo entrati Perché di solito quando Con Anna lo sapete bene ragazzi Più siamo entrati in fondo con la sua storia Più uscivano fuori Roba incredibile Ha mosso la stella Ha aperto la vetrina Invece lei Già parte con delle attività molto forti Ma ancora dobbiamo iniziare a scandagliare Infatti ne abbiamo molto timore Perché noi siamo una famiglia del padre normale Siamo abituati con gli oggetti Ma con questo tipo di oggetto qui Non ce l'abbiamo mai avuta a che fare Questa non è una bambola ragazzi che puoi trovare al supermercato No ragazzi non vedete come è fatta No ma soprattutto ha persone che Praticamente è antichissima È il televisore È il televisore Esci un po' da qua Esci da qua Questa è la No questo Questa qua No Questa qua è la mia E' la mia E' la mia E' la mia E' la mia non c'è nessuno che cammino oh cosa? ti ha detto? aspetta tienilo, tienilo prendo un foglio eh dai figate veronica calma veronica calma cosa? ha detto fuori il senso veronica basta calma veronica ha detto? bravo veronica calma veronica calma veonico ca un cuore Cosa ti fa? Come cazzo le specie? Oddio, no, frate! No, frate, no, vieni a vedere! Vieni a vedere! Che Dio vuoi vedere? Ma ti rendi conto di quello che è successo? Non sono fermato più guardando l'occhio suo. No, per favore. Ha detto fuori, quello l'ho sentito. Cioè, oh, mi sono fermato proprio nel... Ragazzi, mi sono fermato da qui. Stava succedendo questo cosiddetto. Mi sono fermato proprio nel punto in cui lei mi fissa negli occhi. Assurdo! Cioè, come se sapeva che noi ci saremmo fermati qua, fratello? Ma che cazzo? Che cazzo? Cioè, sai che cosa vuol dire? Questa è una cosa bruttissima, eh? Sto abituato. Sto abituato. Ma è più d'oggi? No, quello è... Sto a dire, che cazzo ha detto? Ha detto fuori? Fuori l'ha detto, l'ha sentito, Veronica l'ha detto. Cambiate colore? Cambia colore. Veronica. Poi mi sembra di aver sentito il nome mio, ma non so sicuro. Tiziano? Mi pare che sì, all'ultimo. Tiziano, lo sento. Tanto, tanto, è tutto registrato. Cioè, potranno indietro. Fuori lo sentito bene. Fuori? Fuori, bravo. Cambia colore? Tiziano? Cambia colore? Che cazzo? E... No, sì, ma c'è un'atmosfera troppo... Troppo brutta. Vieni qua. Fidati, fidati. Secondo me se sta per tipo... saltarti addosso, non so che sta per succedere. Ovviamente è una battuta, però... Veronica, io non so perché stai facendo questo. E' impressionante, fratello, gli orps che girano. Poi capì. Che cazzo è stato? Che cazzo è stato? Che cazzo è stato? Oh. Che cazzo è stato? Tu hai visto che... Allora... Hai sentito il rumore della sedia? Ho sentito una cosa che strusciava. Vedete? Allora, aspetta. Sì, sì. Perché tu riprendi... Aspetta, fermo, fermo, fermo. Perché tu riprendevi là. È quello. Allora qualcuno potrebbe dire... Tu hai spostato la sedia. Tu hai visto che mentre giravi la camera si sentiva il rumore. Io ero qui. Guarda quanto è distante la sedia. No, no, fatelo. Guarda quella sedia quanto è distante. Io non l'ho toccata. Ho visto la sedia. Ho visto l'ultima... La fine del movimento. Così, guarda. Io non ho visto questo. Non ho visto questo. Ho visto questo, guarda. Allora... L'ultima parte. Rifallo un po' di rumore. Eh sì, guarda qualche puttana. Non ha le spalle. Ma non c'è che non sei là. Veronica, lo sai che lui è il tuo... Lo sai che lui è l'ultimo tuo collezionista. È lui che ti ha scelto. Ragazzi... Allora... Oh! Accanto a me! Qualcuno ha... Qualcuno ha raschiato qualcosa. Fermo. Fermati. Sì. Lo sai che lui è il tuo... Ultimo collezionista? È stata assoluta assoluta assoluta. Cioè, è appena successa una cosa assurda della... Della radio lì che ha fatto il rumore. Dai, ma lei guarda che potrebbe ripartire. Già mi ho scordato. Già mi ho scordato. Boh, c'è stata lì. Sta strana questa cosa. Mazzi, hai visto che alcune... Cioè, come se ne mette... Hai visto che alcune sfere sono polvere? Ne è arrivata una che ti è andata proprio incontro. E perché? È andata proprio incontro a te, eh. Perché quella che vedi del dopo? Che stava... Che stai firmata qui... Esatto, era così. Guarda che secondo me c'è da con te. Cioè, il fatto che è successa una cosa assurda, Io mi sto aspettando il peggio ancora. Già mi sono scordato da una cosa. Non lo so ricordate. Questa cosa è stranissima. Non mi ha successo. Ascolta, ha detto... Io ho visto come sono fissato quelle cose. Ok. Ha detto... Cambia colore. Fuori. E secondo me ha detto proprio il suo nome. Ha detto Veronica. Ha detto Tiziano. Sembra che gli occhi non mi liberano. Oh, santo Dio, quanto è strano questo oggetto, ti giuro. Veronica, ma tu cosa ci stai dicendo? Cioè, aiutaci a capire un po' di più quello che può dirci. Guarda l'occhio destro. Cioè, apprezziamo molto il fatto che tu hai voluto comunicare con questi suoni. E sei molto forte perché nessuno riesce a fare queste cose. Però dirci almeno... Boh, non so che dire. Ma sei che può dire che è il lavoro. Oh, si muoverà! Si muoverà! Zitto, zitto. Non mi sa, non mi sa. 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 Mi sa. Bene, bene, bene. Non mi sa. Non si. Non mi sa. Non mi sa. Non mi sa. Cos'è sto buco? Cos'è sto buco? C'è profumo? Eh? Io l'altra volta sentivo. L'ho scritto nel commento a una persona. Sentivo odore di aceto. Sentivo odore. Aceto, fumo e tipo marcio. L'ho scritta a una persona. Però stavolta c'è profumo. Potrebbe essere... Allora... Io so perché. Aspetta, lo so perché. Lo so perché. Scommetti. Te lo dico. Vai. Vedi se ho pensato la stessa cosa. Siccome ci sei tu... Non l'hai pensato sicuramente. Siccome ci sei tu che sei il possessore e siccome secondo me vuole proprio entrare in contatto con te nel senso proprio stretto del termine, è probabile che lei stia cercando di... Come posso dirti? Ehm... Accoglierti. Vuole... Vuole... È come se... Vedi è cambiata. L'altra volta io sentivo puzza. Come se io gli dessi fastidio. Mentre a te... Adesso c'è il profumo ed è strana sta cosa. Ma io come io mi sono stato pensato a qualcuno che ci protegge. Dici? Eh. Speriamo che ci protegge Dio a queste cose. A me aveva la testa così. Non so, però a me sembra che cambia sempre l'espressione. Allora, quello che state vedendo, ripeto. Noi che cosa stiamo facendo sti giorni? Questa serie di esperimenti che fino al momento in cui ci sarà la testimonianza e poi da lì cambierà tutto. Perché noi adesso non stiamo parlando. Stiamo vedendo solo quello che accade. Con l'oggetto più infestato che c'è in circolazione. Tu sei stato un genio che l'hai presa. Io ragazzi già so la storia che vi racconterà questo signore. Però non voglio che ve la... Che sono io a dirvela. No, perché sennò non c'erebbe senso che ci sia. E sembrerebbe una stupidaggine. Eh, però diciamo proprio che ci sia la testimonianza proprio della persona che l'ha avuta in passato. Che parlerà alla videocamera. Ora non so se preferirà magari... Non so, è sicuro che magari decide di non mostrarsi. Questo non lo sappiamo. Si concorderà tutto al momento del... Da quello che aveva detto a me, sì. Ma non so se ha detto a te di nuovo. Non lo so. Capace che non vuole. Però comunque ragazzi è una persona adulta che l'ha posseduta un tempo e che quindi ha vissuto delle esperienze e sa la sua storia. Perché lui... Lui viene dallo stesso posto da dove viene lei, ecco. Non so se... Ma cos'è sto rumore? Fermo. Senta ancora l'odore. Fermo. C'è un rumore strano. Ah? Santi. Sai. Sa. Santi. Vieni via da lì, è cambiato, in quel punto è cambiato tutto, c'è qualcosa che non va. Fra? Fra sta facendo una faccia orribile. Fra sta facendo una faccia orribile. La vedi? Fra, gli occhi sono neri, sono diventati. Perché ti piace, hai fatto caso che tu comunque non ti guardi. Fra, gli occhi sono neri, ma si sta muovendo l'occhio. Fra, non è normale, guarda. Fra, lo vedi? C'è qualcosa di nero. Questa è una cosa vicino a lei. Qualcosa di nero, eh? Questa è una cosa vicino a lei. Non vedi? È una cosa bianca, eh? No, non questa è una cosa bianca. Eh, qualcosa sul tavolo. Sì, sembra che si è una vicino a lei. Ragazzi, c'è qualcuno davanti a lei, no? È davanti, guarda le statuine lì. Vedi le statuine? Sono coperte da un allone bianco. C'è qualcuno davanti alla bambola che fissa la bambola. Fra, questa è una cosa atroce. Chi sei? Fra, non è normale. Guarda, si vede anche dal tavolino. Si vede anche che è contrapposta tra noi e il tavolino. È lì nella stanza. E la bambola sembra che ha una faccia diversa. Guarda, sembra che ha gli occhi neri. Sembra che c'è qualcosa di nero che è su di lei. Eh? Cos'era quello? Guarda, i capelli, guarda. Guarda, sono troppo i capelli. Guarda. Un po'. Sì. I capelli si muovono. No, ma si muove il capello a sinistra. Si muovono i capelli a sinistra. Guarda i capelli a sinistra, si muovono. E vedi la treccia che hai indicato? Aspetta, cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire questo? È lo spirito. Eh, c'è qualche spirito. O lei o qualcun altro che sta interagendo con lei. Per qualche motivo. Non lo sappiamo. No, secondo me è lo spirito della bambola. Non c'entrano niente gli altri. Che cosa hai preso? Secondo me gli altri hanno paura. Non è come gli altri oggetti. Questo non è Anna. Non è... Non sappiamo con certezza che c'è dentro. Soprattutto non sappiamo con certezza quanti ce ne stanno dentro. Perché dopo... Cioè, quanti ce ne stanno dentro, capito, la bambola? Cioè, tipo, hai visto Anna? Pensavo che c'era una bambina e lui ce l'ha mai data. La stessa cosa. Ma poi, scusa, se fosse niente di altra nuova non potrebbe notto sto caso. Fra, ma li vedi i capelli? Scusa, i capelli si stanno muovendo. I capelli si muovono. Si muovono i capelli. Ragazzi, io sto a mettere sto pezzo così proprio... C'è qualcuno sulla sedia, lo vedi? È proprio un fusto bianco, più una luna e bianco. È davanti la bambola. Io l'avevo detto che aveva abbassato la testa. Ecco cos'è. Io l'avevo detto. Io l'avevo detto pure che sentivo il rumore. No, ti ricordi quando siamo entrati? Ho detto, guarda, che è l'oggetto che sta là sopra. Ecco, insomma, stavo... Ha cambiato la testa. Non l'ho... Ho messa così, ti ricordi? Adesso ho la testa giù. Non ti avvicinare. Perché dovresti avvicinare? Niente, io adesso rimarrei solo a guardare. Comunque, quello del fatto che si vede è tanta roba. Cioè, qui si vuol dire. Non è tanta roba, è una cosa orribile, capisci? No, nel senso non è normale. Perché si vede così, ma che cazzo? Senti, io non lo sentivo. Senti, basta. Eh? Senti, scusa un po' un attimo. Tieni la così. Tieni la così. Tieni la così. Ok. Rimani là. Rimani là. Tieni la così. Non ciò che vuole? Ok, no, basta Basta, levala da lì Levala, portala lì È tua, porta lì I guanti non sono commessi Non la possiamo toccare adesso Non la possiamo toccare adesso Basta Ragazzi, qualsiasi cosa avete visto Io adesso mi devo Grazie, scrivete nei commenti quello che avete sentito Per favore da lì Perché qualsiasi cosa avete sentito Io me la segno sul foglio Le parole mancanti me le segno Scrivete per favore nei commenti Quello che secondo voi è uscito Io metterò in sovraimpressione Io qualcosa metterò io Però il resto fatelo voi per favore Me lo devo scrivere sul quadernino Quindi tutti nei commenti scrivete quello che avete sentito lì Quando è impazzito il televisore Con la cassa eccetera eccetera Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.